Tutti pazzi per i SUV e quindi i costruttori si adeguano. Eh sì, anche la Volkswagen ha deciso di ampliare a dismisura la sua gamma di sport utility, tanto che presto ce ne saranno di ogni forma, tipo, colore e dimensione. Eh sì, perché la casa di Wolfsburg oggi ha presentato in Brasile un nuovo SUV che si chiama Nivus, che è un po' particolare in realtà rispetto a quanto siamo stati soliti vedere per quanto riguarda le auto della casa tedesca. Eh sì, perché questo è un SUV un po' più stravagante e lo vedete subito il perché. Perché è un SUV compatto ma coupé, quindi i tedeschi portano questo particolare segmento di sport utility un po' più sfizioso, un po' più sportivo, almeno dal punto di vista dell'impatto estetico, anche nel mondo delle SUV più compatte. Eh ma vediamola un po' più da vicino questa Nivus, beh davanti il frontale a me ricorda sostanzialmente quello di una polo. Eh sembra secondo me proprio una polo SUVizzata, ritrovo tanto di polo nel frontale, la fiancata eh tipicamente SUV con i passaruota eh in plastica nera, quindi per dare un po' questa idea di avventura e poi la curva del tetto che proprio suggerisce con forza questa idea di SUV. E poi il posteriore che invece mi sembra un po' pesante, un po' massiccio, ma sa di fatto che dovevano chiudere la linea così spiovente del tetto di questa SUV in versione coupé e quindi è uscito un po' questo posteriore bello pesantuccio. Poi mi direte nei commenti qui sotto se vi convince dal punto di vista estetico. Che cos'è la Nivus? Una SUV coupé che è stata presentata in Brasile. Eh sì, perché inizialmente questo modello sarà destinato al mercato sudamericano, ma attenzione perché già a partire dall'anno prossimo, 2021, arriverà anche in Europa e quindi anche in Italia. Ed è per questo che ho deciso di raccontarvela in questo video. Un modello importante che nasce su un'architettura piuttosto semplice, il pianale MQB ma nella variante A0, quindi quella dei modelli più compatti della gamma Volkswagen e di tutto il gruppo in realtà, quindi diciamo il pianale dell'Apolo. Una meccanica alla MQB A0 che vi ricordo ha ovviamente il motore trasversale e la sola trazione anteriore. Non può avere la trazione integrale nemmeno ovviamente sui modelli SUV, Sport, Utility. La versione europea della Volkswagen Nivus verrà assemblata nella fabbrica spagnola di Pamplona, quindi sarà un'auto di fatto europea al 100%. E come si collocherà all'interno della gamma questa SUV coupé così particolare? Beh, sarà nonostante sia costruita sul pianale MQB A0, qualcuno più semplice, in realtà ha dimensioni piuttosto importanti perché è addirittura più lunga della T-Roc. 3 cm in più della T-Roc, 21 cm in più dell'Apolo da cui deriva potremmo dire. La Nivus è lunga 4,26 metri, quindi non male. Ovviamente i tedeschi hanno scelto di usare il pianale MQB A0 perché è quello che permette di tenere i costi più bassi perché è il pianale più semplice che hanno in casa, ma sapete che essendo un pianale modulare lo possono allungare, strecciare quanto vogliono e quindi anche dal pianale più semplice hanno tirato fuori una SUV piuttosto grande nonostante rimanga poi nella famiglia delle SUV compatte. Una SUV che nonostante l'architettura coupé più sfiziosa punta tanto anche sull'abitabilità e sugli spazi interni. Infatti la Volkswagen dichiara un bagagliaio di 415 litri che non sono mica pochi per darvi un riferimento. La T-Roc si ferma a 373 litri dichiarati. I motori ovviamente saranno tutti quelli trasversali che vengono costruiti per applicazioni trasversali dalla Volkswagen, per ora in Brasile l'auto è stata presentata con un tre cilindri TSI sovralimentato che riesce a erogare 128 cavalli e 200 newton per metro di coppia massima perlomeno quando viene alimentato a etanolo. Sapete che in tanti mercati sudamericani si usa questo tipo di combustibile. Da noi non si sa con quali motori arriverà, non sono ancora stati comunicati, ma come vi dicevo saranno i cavalli di battaglia del gruppo Volkswagen, immagino il 1.3 cilindri TSI e magari anche qualche variante diesel, magari il 2000 TD nell'ultima evoluzione Euro 6 di Temp, cambi secondo me manuale o il DSG automatico doppia frizione che è un po' come il prezzevolo in casa Volkswagen, spunta un po' dappertutto come un fungo. interni, beh anche qui ritroviamo l'Apolo, ritroviamo l'auto da cui deriva questa Nivus, strumentazione interamente digitale, almeno sulle versioni più ricche davanti al guidatore, poi un bel display con schermo in vetro centrale con il sistema di infotainment classico che troviamo sull'Apolo. Ma io voglio sentire adesso da voi un parere su questa Volkswagen Nivus che è arrivata un po' così all'improvviso, una SUV coupé compatta, un po' più grande della T-Roc con la sola trazione anteriore. Raccontatemi tutto nei commenti qui sotto, io adesso vi saluto, ciao da Matteo Valenti e al prossimo video, alla prossima novità. Ciao!